Buongiorno, madonna, buona domenica a tutti Questo video dovevo uscire almeno un'oretta fa ma non ero in condizione Tanto che mi sono svegliato un'oretta, forse pure mezza fa Adesso non so quando uscirà a ripresi del video ma spero verso mezzogiorno Non avevo le forze e non ero in condizioni per registrare questo video Buon caffè a tutti O buon pranzo per chi si sta per accingere al pranzo domenicale Tralasciando la mia faccia, si parla di allenatore Perché ufficiale ragazzi, Eugenio Corini è il nuovo allenatore del nostro Palermo Quindi voglio un hashtag per quelli che non... Così, un hashtag qui sotto, Bentornato Genio Adesso parlerò, dirò la mia ovviamente Anche se già nei giorni passati ne avevamo parlato nei video precedenti Però voglio dire la mia ufficialità avvenuta Mi piace, commento Scaricate l'app che trovate qui sotto in descrizione, nel primo link Se ogni tanto mi fermerò è perché proprio è il mio buongiorno domenicale post trasferta Mi serve del tempo per riprendermi Iscrivetevi ovviamente se non l'avete ancora fatto Mi fa molto piacere avere il vostro supporto Allora, andiamo sul sito del Palermo e leggiamo il comunicato Poi dopo aver letto il comunicato vi andrò a dire la mia E vi chiedo di dire la vostra qui sotto Già la foto è bellissima, quanto sei bello, mio capitano Allora, il Palermo FC comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eugenio Corrini L'allenatore Bresciano torna così a far parte della famiglia Rosanella dopo 4 anni da calciatore capitano Dal 2003 al 2007, che ben ricordi Mi dispiace per i piccolini che magari mi seguono Che hanno vissuto poco quel periodo E una breve esperienza in panchina dal 2016 al 2017 Annata che vorrei dimenticare Corrini ha firmato un contratto biennale, quindi per due anni, con il club E li ha atteso a Palermo già per la giornata di oggi Premetto questa cosa, poi continuo a leggere il comunicato Sono andato a letto tardissimo, tipo le 5, perché sono arrivato a casa verso le 4 Una cosa del genere Ho messo a svegliare le 9, non mi sono alzato E l'altro ho messo ai 10 Durante non so quale periodo della mia nottata Ho sognato E io ve lo posso giurare su qualsiasi cosa Ho sognato L'arrivo Al Barbera E io praticamente ero lì fuori a non so far cosa nel sogno L'arrivo al Barbera In macchina Di Eugenio Corrini Cioè mi sono girato e c'era Eugenio Corrini che stava entrando Nel parcheggio Vabbè dettagli Era Sapevo Sarebbe arrivato Corrini Verrà presentata la stampa martedì 9 agosto alle 11 Nella stessa stampa allo stadio Renzo Barbera Accesso riservato ai giornalisti bla 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 Il City Football Group Il Presidente Mirri e tutta la famiglia Rosa Nero Intendono ringraziare Mr. Stefano Di Benedetto per l'ottimo lavoro svolto E la grande disponibilità mostrata negli ultimi giorni E dare un coloroso bentornato a casa Al Genio Che sarà a lavoro già da lunedì Quindi da lunedì Come ci aspettavamo Perché comunque Comunque non è passato di tempo Da quando siamo senza allenatore Come ci aspettavamo da questo lunedì Comincerà il nuovo percorso nostro Allora Premetto una cosa Ne sono passati Ne sono usciti tanti i nomi In queste settimane In questi giorni Magari dei nomi che non sono mai stati nemmeno contattati Quindi Il dire Eh io volevo Antonio Conte Eh io preferivo Claudio Ranieri Io preferirei Megan Fox Ma purtroppo Eh il discorso è quello Ehm Ci può stare però Di dare la propria preferenza Io però sono contento Sono contento perché Arriva un allenatore preparato Arriva un allenatore Che ama Questi colori Che ama questa piazza Che conosce questa piazza Perché la conosce molto bene Ed è un allenatore che Ragazzi E io vi posso assicurare che Non tutti seguono benissimo il calcio Ma Non tutti gli allenatori Vincono i campionati Il buon Eugenio Corini Ha vinto Il campionato Ok Col Brescia Disse le B Baldini Se non sbaglio Se mente La mente Non mi Eh Un campionato di B Non l'ha mai vinto Un po' di esperienza Se l'è fatta Corini Ehm C'è chi preferiva L'inesperto De Rossi Per Per entusiasmo Bla 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 C'è chi preferiva Eh Ranieri Ma ripeto È scontato Però sinceramente Ragazzi Un allenatore Che ha Allenato già Crotone Mister Frosinone Frosinone Chievo Noi nel 2016 Novara 2017 Brescia due anni E in due anni Ha vinto il campionato Lecce Il Lecce Per poco Ma il Lecce Ci ha messo un po' A salire poi in Serie A Lecce per poco Non lo portava in anno Nel 2021 E E Brescia L'anno scorso Però ragazzi C'è Quelli che mi dicono Eh Ha sbagliato Sbaglia sempre L'allenatore mediocre L'hanno sempre esonerato Ma ragazzi Ma era C'è stata esonerata Palermo E poi a Brescia Queste due Cellino Zamparini C'è Pur Ancelotti Prenderebbe Calci in coda Cellino Zamparini Zamparini Faccia la linea sua Però qualsiasi Allenatore Viene cacciato Così Da queste Allenazioni Sono i due E mangia Allenatori Per eccellenza E la stagione Dove è stata Dove è stato esonerato Da noi Evitiamo di parlarne Perché Lui si è dimesso Andate a rivedere il video Perché non ho parlato Nel 2016 Ho parlato Delle sue dimissioni Evitiamo di parlarne Comunque Lui Vince Il suo Palmares Da allenatore È quello È semplicemente quello È aver vinto Il campionato Di Serie B Nel 2018 2019 Col Brescia Mica una cosa facile Comunque No? Quindi Dato che è una persona Che ama la piazza Che ama i nostri colori Che ama la nostra maglia Che conosce l'ambiente Che Sa cosa Vuole Ok? Due anni di contratto Lo facciamo lavorare Lo sosteniamo Perché noi siamo tifosi Dobbiamo sostenere Il nostro mister E dobbiamo sostenere Sempre la squadra Poi la critica Costruttiva Costruttiva Ci sta Però Sosteniamo E Capiremo Piano piano Cosa sarà in grado Di dare Ai nostri colori Io sono certo Che da adesso Perché adesso Si parleranno Al telefono Questo è un telefono Si parleranno Al telefono Se lui non dovesse Arrivare oggi A Palermo Perché la squadra È rimasta a Torino Comunque Inizierà Ufficialmente Il nostro mercato Si sbloccherà Quindi Vedremo Cosa Cosa arriverà Sul mercato Io sono convinto Che il mister Non abbandonerà Le ali Ok? Cioè non fa Le ali Intendono i moduli Quindi Giocheremo con O ancora Il 4-2-3-1 Se dovesse arrivare Un palice Di tre quartisti Se dovesse andare via Luperini O 4-3-3 Quindi tanti centrocampisti In più Dato che A centrocampo Non c'è più nessuno Ho ricevuto Una piccola Notizia Su un possibile Centrocampista Ma di cui Già se ne è parlato Dovrebbe essersi Sbloccata La trattativa Ma comunque Ragazzi Ne parleremo Io sono contento Ripeto Voglio dare il massimo Supporto a Giorno Corini Mi fido di lui L'unica cosa Ragazzi Che capisco Che la gente Ha avuto tanto malumore Il fatto che Sono usciti tantissimi nomi E poi è arrivato il primo E che si è perso Tanto tempo Però Ripeto Oggi è il 7 di agosto Il calciomercato Si chiude giorno 1 Abbiamo tutto Il tempo Del mondo Per Plasmare la squadra E farla E costruirla Come Eugenio Corini La chiede Quindi Supporto Fiducia Andiamo allo stadio Tra una settimana C'è la prima in campionato In casa Il nostro obiettivo è Cercare Cercare Provate a scriverlo voi Qual è il nostro obiettivo Per quest'anno Dato che tutti Hanno criticato Le parole di Di Soriano Poi In un altro video Ve lo dirò io Qual è per me Il nostro vero obiettivo Campionato tranquillo Cosa significa Sempre Forza Palermo Sempre Forza Palermo Eugenio Corini Genio Bentornato a casa Io Sono contento E ti sosterrò Gli altri Non lo so Grazie a tutti Grazie a tutti